Gianluca Drammis, Nord Milano 24, eccoci qua con Pierluigi Casiraghi, allenatore anche tra l'altro della nazionale italiana Under 21, ex giocatore della Juventus. Allora mister, che ricordo hai di Gaetano Scirea? Hai intitolato a lui il memoria del venticinquesimo anno? Beh, mi ricordo bello, nel senso che era un giocatore, un piccolo allenatore della Juventus rimane sull'altro a Torino, quindi ho troppo tempo di stare con lui, questo è stato che era il marco più grande, anche se con Zoffer era veramente una coppia, veramente fantastica, quindi una persona del genere è stato veramente un grandissimo tocciato. Ha trasmesso grandi valori, etici, soprattutto, per questo che mi hai ricordato. Soprattutto come persona, il giocatore è veramente fantastica, ma è una persona di vera forse ancora di poco. Mentre invece ti abbiamo visto spesso qui al torneo, anche magari la prima settimana, che impressione hai avuto? Qual è che è la squadra che ti ha maggiormente stuzzicato? C'è il fine, poi, è un torneo che c'è inizio di stagione, quindi è anche difficile fare una persona come questo inizio, ragazzi. Ovviamente le squadre in Barcellona non si smentiscono mai, sono sempre delle squadre che giocano un ottimo calcio, hanno anche dei giocatori fantastici, però in generale il calcio giovanile penso che sia sempre uno spettacolo da vedere, quindi è sempre bello che, infatti questa è l'ultima domanda che ti volevo fare, quindi c'è crisi del calcio, sappiamo tutti come è andata a finire, stasera c'è la prima di Conte, sta andando anche bene, però comunque l'Italia ha dei problemi importanti da questo punto di vista. Pensi che comunque dare importanza a queste tipologie di tornei, cercare di sensibilizzare, comunque anche far crescere i nostri ragazzi dai vivai può essere la scelta, la strada giusta da seguire. Beh sì, infortunatamente in Italia i giorni di questo genere sono sempre stati, il problema è quando diventano un pochino più grandi, il passaggio dal settore giovanile alle prime squadre è sempre il passaggio più difficile, più complicato, soprattutto in Italia è veramente un passaggio molto difficile, però per risolvere allevarci abbiamo bisogno di talenti, abbiamo bisogno di giocatori ovviamente italiani che facciano la differenza e si possono creare soltanto tramite il calcio giovanile, quindi speriamo che l'inguale sempre... Benvenuto, allora ti ringraziamo, buon proseguimento. Ciao, ciao.